Buongiorno, oggi è il mio momento, mi sto laureando in scienze dell'educazione e della formazione qui a Rovigo, in dirizzo prima infanzia. Ho passato un bellissimo percorso di studi, intrapreso con grande tenacia e motivazione e devo dire che sono veramente contenta di quanto ho potuto apprendere durante questo percorso universitario per tutti gli insegnamenti, quindi sono veramente onorata, posso dire, di aver fatto questa scelta ancora quattro anni fa. Appunto adesso continuerò nel mio settore come educatrice di Nido e quindi consiglio a tutte le future colleghe e colleghi di intraprendere questo percorso meraviglioso. Buongiorno, sono una laureanda in scienze dell'educazione e della formazione. Oggi finalmente è arrivato il grande giorno e sono contenta di questo percorso perché è stato un percorso ricco di soddisfazioni e consiglio a tutti questa università perché è frutto di una passione e anche dell'incontro tra quella che è la teoria e la pratica dell'educazione. Sono Chiara, sono una laureanda in scienze dell'educazione e della formazione e oggi finalmente è arrivato il mio grande giorno e mi laureo anche io. Questa è una bella università, è un bel percorso e lo consiglio a tutti. Grazie. Sono una laureanda di scienze dell'educazione e della formazione e oggi finalmente mi laureo. Sono stati tre anni impegnativi ma comunque interessanti e sono potuta anche entrare già nel mondo del lavoro e quindi riscontrare quello che sono andata a studiare. Sono contenta di essere arrivata fino a qui e consiglio a tutti questo percorso anche perché dà grandi soddisfazioni.